Grande sensazione di puro malessere è stata costretta a vivere la bella, brava e simpatica conduttrice e attrice italiana Iva Zanicchi. A seguito delle forti piogge riscontrate in quest'ora di tempo nel nord Italia, la bella Iva si è ritrovata infatti con il cortile allagato dopo la grandinata e lei stessa non ha mancato di condividere il video su Instagram, il social di foto per eccellenza. Un disastro alla fine del mondo, ci sono chiusi i tombini, è stata la fine del mondo, prima era buio pesto, ora è tornato il sole, chiamerò qualcuno perché se piove ancora poi l'acqua entra in casa. Insomma per farvela breve, per dirvela in maniera molto sintetica ma auspico quindi spero efficace, Iva Zanicchi si è ritrovata in mezzo al cortile completamente allagato, quindi completamente immerso dall'acqua. Un disastro in piena regola, queste le parole che avrebbe utilizzato la bella Iva e avrebbe aggiunto è la fine del mondo. Vi ringrazio per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi, questo video ovviamente non vuole vedere la frase di Iva Zanicchi né di altre persone, ma solamente informare eventuali persone, esseri umani, di ciò che si sarebbe verificato di recente. Il pieno rispetto della sua persona e ovviamente della sua privacy. Grazie a voi tutti cari utenti di YouTube, al prossimo video.